Soprattutto dalle dita, che origini ha la terapeutica magnetica, commento, deriva dal mesmerismo e in genere dalla teoria del magnetismo, per cui da tutte le sue parti, soprattutto dalle dita, il nostro corpo emana un fluido magnetico che si dirige verso la parte opposta. Il corpo umano è così polarizzato. Il lato destro produce una corrente di segno negativo, il lato sinistro una corrente di segno positivo. Le persone calme e dolci, le donne in genere, sono influenzate negativamente, mentre gli uomini sono influenzati positivamente. Il maschio, parte agente, è positivo in proporzione di quanto sia virile ed energico. La femmina, parte ricevente, è negativa in proporzione di quanto sia debole e fragile.